È un tribunale tutto sommato in equilibrio dal punto di vista dell'attività giudiziaria, quello di Ferrara. La macchina della giustizia funziona nonostante manchino all'appello tre magistrati, che salgono a quattro da quando c'è stata una riorganizzazione territoriale. Se di processi molto vecchi ce ne sono ancora, ma sono veramente pochi, lo smaltimento si deve alla forza di volontà e operosità dei giudici di Ferrara. A fare il quadro dell'attività del Tribunale Estense è la nuova presidente Rosaria Savastano. A Ferrara, dove lavorò in passato come giudice e oggi tiene comunque udienze nella sezione civile, si è insediata a novembre e davanti ai microfoni di Telestense prova a fare un primo bilancio di cosa ha trovato in città. Uno dei primi processi che ha dovuto prendere in mano per la molle organizzativa che richiede. Ci sono 755 persone che si sono costituite a parte civile e il processo Carife partirà con l'udienza preliminare. Il 20 settembre si terrà nella sala del centro sociale il quadrifoglio, udienza che sarà tenuta dal GIP Piera Tassoni. Un processo, dice la presidente Savastano, che è tecnicamente molto complesso e per la sua organizzazione ha potuto contare sulla disponibilità delle istituzioni locali. È stato un lavoro anche dal punto di vista organizzativo non lieve per il numero rilevante di parti offese che se vorranno avranno il diritto di partecipare all'udienza preliminare. Quindi noi ci siamo mossi in maniera tale da assicurare un ambiente magari non bello. Ecco, non abbiamo guardato all'estetica ma abbiamo guardato alla funzionalità del luogo e alla capacità del luogo di ricevere tutte le persone che avendone diritto vorranno partecipare all'udienza preliminare. A questo processo a dicembre se ne aggiungerà un altro su cui saranno puntati i fari dell'intera comunità ferrarese. Si tratta del processo che vedrà come imputato un latitante, Norbert Fer, alias Igor Vaklavic. Un processo molto impegnativo per i giudici che se ne dovranno occupare, dichiara la Presidente, perché richiederà sacrifici personali e molto impegno professionale, dice. I processi di questo tipo coinvolgono la vita del magistrato. Gli impediscono anche di svolgere una vita normale perché l'impegno lavorativo è talmente forte e ovviamente anche l'impatto emotivo che ogni giudice ha quando si affrontano problematiche del tipo di cui abbiamo parlato prima sicuramente non è di spessore, di poco spessore. Poi c'è la nota dolente del personale amministrativo. Manca un terzo della forza. Da anni non c'è un tarnovere. Quello che oggi lavora non è nemmeno motivato perché, a meno che il Ministero non trasformi infatti un'intenzione, oggi questa categoria non ha la possibilità di fare avanzamenti di carriera. Il bravo operatore si impegna, fa tanto per svolgere il suo lavoro nel modo migliore e poi non ha possibilità, perché non sono previste dal Ministero, di avanzare nella sua carriera, cioè di avere un riconoscimento che sia importante sia dal punto di vista professionale e anche dal punto di vista economico, alla fine perde motivazione. E l'unica motivazione rimane ovviamente il decoro e diciamo la dignità personale. Però vi rendete conto che non è giusto, non è giusto porre dei lavoratori seri in queste condizioni.